Una frase che mi piace dire è che la cosa più bella che mi ha dato la malattia di mia figlia è stato conoscere l'associazione. Entrare a far parte di Mitocon per me è stata la salvezza, perché di fronte ad una malattia incurabile che colpisce tuo figlio quando ha pochi mesi di vita, ti fa crollare il mondo addosso. Ti rendi conto di essere impotente a combattere contro qualcosa che non potrai sconfiggere, ma lo puoi sconfiggere in altra maniera, non con la guarigione, ma con la forza che metti in un progetto, in un progetto di cura, che potrà non essere pronto per guarire mia figlia, ma che potrà un giorno sconfiggere questo tipo di malattie e far sì che non ci siano più bambini malati, che non ci siano più pazienti adulti che si ammalano quando hanno 40 anni e quando la loro vita finisce troppo in fretta. Far parte di un'associazione vuol dire condividere il proprio dolore e la propria gioia con delle persone che capiscono quello che tu stai passando. Aiutare l'associazione nelle varie attività, nell'organizzazione del convegno, nel conforto degli altri genitori, nel fare diffusione di questo tipo di malattie, di fare raccolta fondi per finanziare la ricerca, è per me la cosa più importante in questo momento, oltre ovviamente alla cura che devo dare alla mia bambina. Grazie a tutti.